ciao e benvenuti su questo nuovo video saldi super super saldi dunque ahimè ma non troppo ahimè sono stata ancora a caccia di saldi perché sia sul sito che nei negozi c'erano veramente delle occasioni interessanti dunque partiamo da questo braccialetto questo praticamente l'ho completato e i miei ultimi acquisti sono stati il famosissimo rinocerontino perché ormai veramente era sceso tantissimo di prezzo e quindi ne ho colto l'occasione questo l'ho ordinato sul sito poi l'altra volta ve l'ho fatta già vedere la farfallina non ve la faccio vedere di nuovo anche questa saldo poi questo angioletto questo angioletto non era previsto perché non era né più online né sul catalogo che avevo e tanto meno appunto nelle store sono andata nel negozio che ho qua vicino a dove abito e per caso mi è caduto l'occhio cerca un angioletto l'altro che era sempre in saldo però vedendo questo sono rimasta fulgorata infatti questo fa parte di una ricchissima serie e l'ho trovato extra scontato e come vedete ha l'aureola dorata infatti è ancora uno dei pochi pezzi con l'oro 18 carati qua è proprio visibile sono stata felicissima perché uno comunque l'angioletto per me era previsto tra i miei prossimi acquisti quindi questo proprio mi ha colpita e devo dire che ne sono rimasta veramente contenta guardate di qua guardate che a luce è meraviglioso ecco così si vede meglio e sotto va bene il suo timbro solito poi sempre presso il negozio ho trovato anche questa morrina questa morrina il color rosa tenue con tutti i zirconini minuscoli 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 all'interno che su questo bracciale stava bene perché comunque ho mantenuto vedete questi toni rosati ma un rosa molto sempre tenue sono molto soddisfatta poi dalla realizzazione finale sempre presso il negozietto anche corsetta con l'orsettina anche questa color rosa meravigliosa meravigliosa sempre sconto e qui abbiamo quindi terminato quelli che sono stati i saldi poi a caccia ancora di murrine questo è la morrina con la bocca questa presa scontata ha praticamente lo sfondo rosa in cam si vede poco sembra quasi bianco ma non lo è rosa con tutti i puntini argentati e le boccucce rosse questo si riesce a trovare ancora scontato e poi ho preso ovviamente tutti questi chance li ho messi qua al momento ma non resteranno su questo bracciale perché non è proprio adatto per per contenere tutti i chance messi in questa maniera li sposterò lascerò qua solo quelli a tema spazio ho messo poi questo preso sempre in negozio perché allo store non ce n'erano più qui vedete alla stellina con lo zergone babbo natale sul razzo che allo store era decollato non c'era più se mi avrei andato via ah che spirituosa proprio spirituosa e poi ho preso questo sempre questo invece l'ho preso allo store è della pallina rosa cilindri una che si nota molto è trasparente super scontata anche questa è così questi sono stati i miei acquisti per ultimo qui lo vedete bene è l'anello adesso lo faccio vedere da solo così qua lo potete vedere meglio la pietra nera quadrata e poi qua tutti i pallini lo posso portare sia al centro che qua all'anulare perché comunque abbastanza largo mi scappa un po' quindi lo porto con il mezzo poi questa è l'ultima tappa che ho fatto questa scatolina qua non ho di vista ce l'hanno solo in quel negozio e qua ci sono gli ultimi danni gli ultimi danni e poi abbiamo finito ragazzi troverò pace perché erano tutte cose che io nel tempo avevo addocchiato ma mai preso perché sono sempre attenuta atteso 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 perché appunto i prezzi non scendessero molto sono stata anche fortunata perché con le misure soprattutto non sempre va a buon fine allora questa è quella con topolena mini più bella dal vivo che in camera molto molto carina faceva sempre parte degli sconti e anche questa con lo sfondo argentato e le linee a delle linee rosate che hanno dei puntini microscopici dorati non sono arancioni non sono arancioni e proprio rosate rosa antico e volante quindi questi l'ultimo danni anche questo scontato trovato solo lì in questo orificeria è un po che lo cercavo è russo ma il rosso quello più scuro della collezione posso portarlo un po che vedete che qui qui mi va un po l'argino ma non mi lamentizza da portarlo lì ma quello io qui qui o al centro di come mi gira questa era la misura non so neanche se c'è scritto ecco e la misura è la questa è la 56 ma vabbè non penso che mi interessi molto per quanto riguarda i saldi abbiamo terminato e devo dire che sono molto soddisfatta voi avete fatto altri acquisti se avete canali simili al mio lasciatemi qui sotto i vostri commenti e ditemi che cosa cosa avete trovato che così vengo a vedere i vostri video perché sono molto interessata e magari suggeritemi qualcosa anche per quanto riguarda i bracciali sul sito ne avevo visto uno che non riesco ad acchiappare mai al volo ed è quello che è così come questi per i moment ma qua la chiusura con dei fiorellini non riesco a capare e perché mi servirebbe perché comunque adesso comincio avere tanti charm voglio fare alcuni spostamenti quindi con il 3x2 e visto che siamo in occasione del mio compleanno che a marzo volevo profittarne e anticipare quindi l'acquisto di un bracciale nuovo comunque io vedo sempre volentieri altri video vi ripeto quindi mi raccomando fatemi sapere in un commento se vi siete lanciati in ulteriori acquisti vi saluto vi ringrazio per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video ciao ciao